Ciao ragazzi e benvenuti su Gastio of Drums. Oggi qui con me ho un pacco di strumentimusicali.net con all'interno una cosa molto 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 strana che volevo portare sul canale perché è una cosa veramente veramente curiosa. L'avete già un po' vista in un video, quello in cui vi facevo vedere i regali perfetti per un batterista. Qui c'è un regalo perfetto per un batterista ma in realtà c'è tutto un aggiornamento sul regalo perfetto per il batterista perché là vi ho fatto vedere uno. Qui vi ne faccio vedere tre, sto parlando di metronomi, sto parlando dei metronomi Soundbrenner. Ci sono tre possibilità di metronomi Soundbrenner e quali sono questi metronomi? Sono quelli che vibrano, quelli che vi mettete al polso, al braccio, alla gamba, alla testa, quello che volete e vibrano. Quindi la figata di questi metronomi, qui abbiamo il Pulse se non sbaglio, eccolo qui, il Soundbrenner Pulse, poi abbiamo il Core, eccolo qui e infine abbiamo l'altro, il Core Still, eccolo qui. Questi metronomi qua sono molto fighi perché sono metronomi che vibrano, quindi non il solito pip 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 pip, ma sono metronomi che appunto vi mettete il braccio dove volete e vibrano, quindi non danno fastidio ma riescono a darvi un senso del ritmo o comunque dovrebbero. Oggi lo scopriamo veramente perché l'altra volta appunto nel video in cui mi avete chiesto di provarli tutti l'ho un po' provvicchiato, ho detto un po' la mia ma volevo fare una cosa un po' più approfondita. Quindi andiamo a vederli, mando la sigla e poi ci spostiamo alla batteria. Eccoci qua, partiamo quindi con il più economico della serie, diciamo, cioè il Soundbrenner Pulse. Vado? L'avevo preso, ma non so dove, ah là. Allora, con molta calma, ah no, c'era il coso, allora non mi serve. Questo è quello che più o meno avevo già provvicchiato un pochettino, in pratica vi spiego come funziona per chi magari ancora non sa come funziona tutto questo mondo che è una vera figata e questo cavetto è una vera figata, guardate che bel colore ha questo cavetto che è quello per caricare il metronomo, l'orologio, non so come chiamarlo perché si può chiamare in più modi. Allora, due cinturini, uno per il polso, uno per il braccio proprio e io in realtà voglio provarlo su braccio perché? Perché batteristicamente il polso è talmente soggetto a movimenti, soprattutto quello per la mano sinistra che fa dei movimenti ampi e io l'orologio lo voglio sempre mettere a sinistra, che voglio provarlo sul braccio che è un po' più in alto, potrebbe funzionare meglio, vediamo un attimo. Ce l'ho fatta a montarlo, è stato ovviamente molto semplice, questo è il base, come vi ho detto, è il Sound Branded Pulse base, basta per farlo partire, doppio tap, come potete vedere? Lui ha già incominciato. Se voglio stopparlo, due tap e sono a posto. Se voglio dopo aver fatto i due tap andare ad aumentare o diminuire il metronomo, basta che giro questa ghiera. Sentite? Va da 20 ppm a 400 direi, una cosa del genere e se invece io sto andando ad esempio live, devo suonare una canzone che è Baking Black di CDC, quindi io intanto mentre me la cantavo facevo il tap tempo sopra di lui e lui mi ha tenuto il tempo, quindi one, two, three, four. Ok, allora bisogna farci un po' l'abitudine a questa cosa qua, perché è molto molto particolare questa tipologia di metronomo, ma veramente molto interessante. Allora, come vi ho detto io ho deciso di metterlo qua perché sul polso secondo me il movimento era troppo ampio e quindi rischiavo di non sentire la vibrazione. Di pro c'è che mettendolo al polso io ho questo che si illumina sempre quando suona, quindi io al polso posso anche un po' basarmi sull'illuminazione. Secondo me una cosa molto interessante di questo è che è da vedere come un metronomo, ma non solo, cioè ad esempio io come vi ho detto sto per dover partire con una canzone, Baking Black, facciamo sempre quell'esempio lì, e ce l'ho in testa ma vorrei tenermi un metronomo, e lui parte e va. Io nei live ho sempre avuto il problema che mi cantavo la canzone in testa, poi il cantante parlava ancora mezz'ora e io quindi o mi continuavo a cantare la canzone per riuscire ad avere sempre il tempo giusto, oppure me la perdevo e quando c'era da suonare dovevo ricantarmi in testa la canzone e poi partire. Qui la figata è che tu te la canti e poi lui continua a tenerti il tempo, tu ti fai i cavoli tuoi finché il cantante non smette di parlare al pubblico e quando smette tu hai ancora la tua vibrazione che parte e volendo tu puoi continuare con la vibrazione oppure spegnerla ma hai ancora in testa la velocità di metronomo che ti diceva lui e quindi partire dalla velocità giusta. Secondo me ci sono un po' di applicazioni molto interessanti con questo metronomo qua, adesso però voglio andare a provare gli altri, ma prima vi dico una cosa che va un po' a far partire una cosa con tutti gli altri metronomi che è l'applicazione per cellulare. Quindi noi possiamo andare direttamente a scegliere la velocità per prima cosa, possiamo andare a dare dei suoni diversi qui sopra ai nostri metronomi, alle nostre pulsazioni, quindi se lo facciamo partire qui avrò l'uno diverso dagli altri, ovviamente, posso andare a scegliere la firma della misura come dice qua, cioè in che tempo voglio andare a suonare, posso decidere quali note voglio che mi faccia, quale cellula ritmica, posso decidere un tempo in cui lo voglio spegnere, nel senso un numero di battute oppure un tempo, questa è una figata perché se noi vogliamo studiare una cosa per 5 minuti, noi andiamo a mettere 5 minuti, clicchiamo e poi in alto a sinistra quando cominciamo a farlo sentire vedete che ci conta i 5 minuti e un secondo perché mi ero dimenticato quel secondo. Comunque, qui sulla destra abbiamo il tap tempo, andando sulla parte bassa biblioteca io ho la possibilità di salvarmi un po' di cose, in casa ho la possibilità di capire tutti gli aggiornamenti, tutte le impostazioni e tutto quanto, questa è una figata perché io lo collego tramite bluetooth, imposto tutto e poi facendolo partire posso dargli direttamente il segnale a lui, quindi imposto da telefono, è tutto a posto, mi salvo le cose che devo e poi lo faccio partire direttamente dal braccio come ce lo avevo adesso oppure da quello che voglio. Passiamo a quello dopo, andando in ordine di prezzo c'è il core, il core è una bomba raga, è una bomba per vari motivi, questi sono, a me intrippano sempre queste cose un po' tecnologiche diverse dal solito, ma il core è molto 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 interessante perché a parte che è molto 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 carino come è fatto, cioè ha il cinturino che è staccato dal metronomo, io poi vado a fare così, ah è magnetico, uh che bello, beh questo è molto bello ragazzi, devo dire che questo è molto bello, si è anche già acceso e tutto, qui ha un bel po' di cose perché per prima cosa vi faccio vedere gli accessori che ci sono con questo metronomo qua, tanto l'idea l'avete capita, ma qui sto a più accessori perché non è solo un metronomo, è proprio uno smartwatch, quindi qui dentro vi possono arrivare, se lo collegate al vostro cellulare, i messaggi, potete chiudere le chiamate, potete alzare, abbassare il volume, potete fare un bel po' di cose, qui avete il cinturino invece da mettervi, ah questo è quello da braccio, ma un po' più comodo perché è in questo vellutino, che cavolo è, non lo so, e poi c'è l'altro che potete mettervi qui invece, proprio core, proprio il cuore praticamente per sentire meglio, e poi allora carica batterie verde come al solito, qui avete due tappi per le orecchie anche, in questa cosa che è molto bella, questa è una cosa molto bella, i tappi per le orecchie non hanno mai un posto dove stare, qui invece avete l'apposita custodietta e siete a posto, e poi qui un'altra cosa che a noi batteristi non interessa, ma che comunque è molto molto interessante, c'è questo, che non so se riuscite a vederlo, questo affarino qua, che in realtà è una calamita che voi attaccate al vostro soundbrenner e vi fa da accordatore per altri strumenti, quindi con la calamita voi potete andare a collegare questo metronomo a un basso, una chitarra, e questo vi fa anche da accordatore, quindi non fa solo da metronomo, ma rileva le note fatte da un certo strumento e va a fare anche da accordatore, quindi se non siete solo batteristi, ma siete anche, che ne so, chitarristi, bassisti, ukulelisti, allora potete usare questo non solo come metronomo, ma anche appunto per accordare to the guand, ah questo mi sembra anche molto più potente, tra l'altro, ah guardate che figata, qui ho scritto anche quanta batteria ho ancora, l'ora, molto bello, beh questo è molto interessante devo dire raga, questo è molto interessante, sono pronto per questa sfida, aiuto, no l'ho messo al contrario, l'ho messo al contrario, bastava girarlo così in realtà, vabbè, messo, mi sento molto Iron Man con questa cosa, spero tra l'altro non rompa le scatole del microfono che ho qui, romperà sicuramente, sentirete, ma pazienza, raga mondiale, tra l'altro vi faccio vedere così, guardate, mi fa vedere anche il metronomo, me lo fa sentire, prima cosa, io posso andare a decidere il volume, credo, ah no, no, sono veramente, sono veramente stupido ragazzi, è l'app che stava suonando, il metronomo stava andando solo con la vibrazione, però secondo me qui la sento un botto, raga allora funziona, ma fatemi provare una cosa, perché in base a quanto gli do potente, su qui, in pratica, lui suona, fa più zzz, oppure fa zzz, se è più piano, proviamo a metterli tutti forti, così è fortissimo, non posso non sentirlo, prima lo sentivo, ma sentivo più quelli, quelli forti li sentivo bene, gli altri meh, quindi, ok, allora, molto figo, doppio tap anche qua e si stoppa, è molto figo, ci va un po' di abitudine a questa cosa qua, cioè pensate a quando avete cominciato a suonare col metronomo in cui sentivate bip, 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 bip e non riuscivate a starci dietro, qui ovviamente è la stessa cosa, perché non siamo abituati a suonare con un metronomo che vibra, ma, ma è veramente, è veramente molto interessante, è una sensazione diversa e secondo me quando ti abitui a questa, il metronomo non è che non lo vuoi più usare, quello normale, però qui è proprio una questione di feeling, zzz, 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 cioè non sono le orecchie che devono ascoltare, ma è direttamente il corpo che diventa il tuo metronomo, cioè non so se mi spiego, però la sensazione è quella lì, è molto interessante questa cosa, è veramente molto interessante. Adesso vado avanti e provo l'ultimo, che sinceramente non so cosa possa aver di più ancora di quello che ho provato, perché già quello là era pazzesco, il cambiamento tra il core e il pulse è veramente, veramente, veramente tanto, veramente bomba, bravi, gravissimi, bravissimi. Allora, qui il packaging, diciamo, è molto simile rispetto al core, qua allora, però c'è una cosa che di là non c'era e almeno non credo, il sacchetto, il sacchettino marchiato soundbrenner per metterglielo dentro direttamente e tutte cose, molto carino, è una cosa in più che comunque se volete portare in giro, e questo è un metronomo sinceramente ragà, da portare in giro, non da lasciare a casa, è molto interessante. Cinturino più bello di quello di prima, questo è in silicone, direi, come al solito qui abbiamo tutte le istruzioni varie. Ah, ecco, qui c'è un cinturino in pelle, direi, che potete tranquillamente cambiare, fare quello che volete, poi tra l'altro di questi ce ne sono mille tipi e anche mille colori, qui sono tutti neri, normali, ma c'è verde, giallo, rosso, a pua, a righe, che cavolo ne so, ma ce ne sono mille tipi, non so se pua e righe ci sono, ma ce ne sono tanti. Come il core che vi ho fatto vedere prima, anche qua non sto ad aprirlo, avete il cinturino da mettervi qua, avete l'accordatore, avete tutto quanto, i tappi per le orecchie, quindi qui avete in più sicuramente il sacchetto e il cinturino. Vediamo, allora, prima a metterlo al polso, voglio capire se questi due suonano, vibrano, più forte di quello del primo che ho visto, cioè capire se c'è differenza anche di vibrazione, seppure la vibrazione rimane fissa, ma, boh, non lo so, vabbè, avete capito, no? Cosa volevo dirvi. Questo però, no, no, aspettate, 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 l'ho beccato, l'ho beccata la differenza. Questo qua è plastica, questo qua è metallo, cioè questo è più pesante ma è molto più resistente. Infatti appena l'ho toccato ho detto, ok, c'è qualcosa di diverso. Questo, ecco perché il costo è maggiore, perché è più resistente ed è, che figo, questo ovviamente è bello, funzionale e tutto. Questo ha veramente qualcosa in più, quindi svelato l'arcano. Serto che potevo mettere il cinturino in pelle e fare un po' il figo, eh? Vabbè, vabbè, ormai non l'ho messo. Allora, devo sbloccarlo con l'app. È partito subito, va bene, va bene, allora suoniamo, va bene. Sei partito, suoniamo. One, two, three! Allora, raga, sì, devo dire che al polso adesso, prima vi ho detto al polso, non lo so perché non so se vibra abbastanza forte, eccetera, quando si mettono tutti i colpi forti di metronomo, come se fossero accenti, lo sentite tantissimo, cioè muove proprio... Non è possibile. Mi è arrivato un messaggio e me l'ha detto, ma io l'ho impostato, effettivamente l'ho impostato Bluetooth, ma non pensavo che facesse tutto in automatico. Tutto in automatico fa, quindi mi si è già collegato a WhatsApp, mi si è già collegato pacco pronto, lo ritirerà domani mattina al Corriere. Mi sta arrivando un nuovo pacco, ragazzi. Che figata. Ultima cosa che vi dico di questo è che questo qui è anche il core. Hanno la possibilità di misurare i dB, quindi la potenza, il volume che avete attorno a voi. Quindi se volete misurare i dB che avete sulla batteria, oppure se volete misurare i dB a un concerto o banalmente i dB fuori dalla vostra stanza per vedere quanto casino fate con la batteria, con questo lo potete fare. Quindi vi dice quanti dB sono, vi dice per una certa soglia, vi dice warning, quindi state attenti perché siete un po' troppo al volume alto, quindi proteggetti, eccetera, eccetera, eccetera. Raga, questo è veramente una bomba. Questo è veramente una bomba. È veramente una bomba. Così tanto non me lo aspettavo. Cacchio, non me lo aspettavo. Adesso lo devo comprare. Quindi ragazzi, questi sono tre prodotti, uno, due e tre, veramente che mi hanno sbalordito oggi. Avevo provato questo qua ai tempi, nell'altro video. Avevo provato questo, che è il base, e avevo detto allora, questo è molto carino, veramente molto carino. Non avevo detto invenzione della vita, però avevo pensato, cavoli, per studiare, ad esempio, sarebbe perfetto. Mi metto lì sul pad, anziché dovermi fracassare le orecchie col metronomo, mi metto lì, doppio tap, mi studio tranquillamente quello che voglio, me lo tengo lì, e intanto mi tonifico anche un po' i bicipiti, e fa anche bene per quello. No, a parte gli scherzi, però, questo è molto interessante, secondo me, per quanto riguarda lo studio. Costa poco, si studia sul pad, lo metti lì o sulla batteria, quello che vuoi, funziona molto bene. Questi qua due, invece, raga, che vi dico? Questi qua due mi hanno ucciso, cioè non mi aspettavo che esistesse una cosa del genere, me li aspettavo un pochettino più potenti degli altri, ma niente di che. Questi sono una figata, perché, a parte che lo schermino è molto, molto, molto bello, il logo Sound Trainer, devo dire che è molto carino, hanno l'ora, hanno comunque la batteria, hanno, si collegano col bluetooth all'app, ma poi ovviamente possiamo andare a fare quello che vogliamo direttamente da qua sopra, perché, ad esempio, io qui sono a 75 bpm, ma volendo, non so se si veda o no, forse così, io posso andare anche ad aumentare e diminuire la velocità di qua. Stessa cosa con il mio tempo, 4 quarti, ma posso fare anche altro. Stessa cosa se io voglio terzine a 70, lui mi fa terzine a 70, se voglio modificare gli accenti lo posso fare, posso fare veramente quello, quello, quello che voglio. Quindi, questo è stessa cosa anche di qua. Poi, questione del rilevamento del volume, molto, molto carino, questione dei messaggi e di tutta la questione smartwatch. Raga, quanto costano smartwatch? Qui avete tutto insieme, quindi, prima ero a fare il video e mi è arrivato un messaggio, ho guardato, ho detto, vabbè, nulla di troppo importante, vedo dopo. Poi, cioè, sono tutte quelle cose che, secondo me, per il prezzo ci stanno alla grande, sono veramente molto, molto, molto interessanti. Quindi, complimenti Sound Trainer per questo prodotto innovativo, sicuramente, e bravi. Avete fatto un ottimo lavoro? Grazie mille, come sempre, a strumenti musicali.net, ho ancora il pacco qua, quindi ve lo faccio vedere, ovviamente sempre aperto al contrario, ma questo ormai siete già abituati, quindi io vi saluto qua, il video finisce e se vi va iscrivetevi al canale qui sotto. Avete capito, raga, noi ci vediamo al prossimo di video. Ciao!